Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo come sempre, ben ritrovati qua nel solito e usuale disordine della mia libreria. Allora, cari signori, per la prima volta dopo tanti mesi, dopo un anno e mezzo, dopo centinaia di video, non vi parlerò di guerra, non vi parlerò di metal, non vi parlerò di armi, non vi parlerò di aerei, ma vi parlerò di un film che con la seconda guerra mondiale non c'entra assolutamente niente. Perché? Perché sono andato sabato scorso, sono andato a Fano con la mia fidanzata, abbiamo fatto i bravi fidanzatini, siamo andati a vederci un bel film insieme e questo film si intitolava, si intitola La Banda Grossi, una storia vera quasi dimenticata. La storia, un film ispirato alle vicende della banda del brigante Terenzio Grossi che agì in provincia di Pesaro, tra le valli del Metauro e del Cesano, tra il 1860 e il 1861, poco dopo che le Marche furono, come dire, annesse al regno sardo piemontese. Un film bello, veramente bello. Si vede, cioè, detta così com'è, girato con due soldi, ma fatto veramente bene. Una narrazione, un film potente, un film duro, un film che ci parla della povertà dell'Italia di allora, che ci parla della fame, della miseria, della violenza, della durezza della vita nell'Italia del 1860. Un'Italia neonata, un'Italia che, come dire, viveva un'epoca turbolenta e cruda e violenta anche, sicuramente violenta. Un film, quello di Claudio Ripalti, che è praticamente un western, sì, è un western, un western girato nelle Marche. Un western, un piccolo gioiello western che deve molto, moltissimo secondo me, a due grandi maestri del cinema come Sam Peckinpah e come Sergio Leone. Ripalti, in questo suo film, ha reso un grande omaggio a due maestri del cinema. Un omaggio che è, come dire, ben riuscito, un omaggio sincero, sentito, appassionato e soprattutto rispettoso dei due grandi maestri a cui fa riferimento. Insomma, Sam Peckinpah e Sergio Leone sono da sempre due dei miei registi favoriti. Sono da sempre due grandi, cioè io li ho sempre considerati due assoluti geni del cinema, sia Leone che Peckinpah. Peckinpah, beh, vabbè, lasciamo perdere. Matto come un cavallo, incontrollabile come non si sa che cosa, ma capace veramente di scolpire nella pietra le immagini dei suoi film. Vi dico solo questo. Io, guardando la banda Grossi, cioè guardando certe scene della banda Grossi, vedendo i sette briganti di Capitanati da Terenzio Grossi camminare, muoversi nei maestosi paesaggi delle Marche, non è, non poteva non venirmi in mente la scena finale della camminata dei vecchi eroi del mucchio selvaggio, della scena finale del mucchio selvaggio. Non potevo, non ho potuto fare a meno di ricordarmi quella scena vedendo i briganti Capitanati da Terenzio Grossi camminare tra le colline marchigiane. Ripeto, ispirarsi ai grandi del cinema non è peccato. C'è chi ci ha costruito una fortuna non indifferente come Quentin Tarantino, lo sappiamo tutti. Rendere, come dire, educatamente, con avvicinarsi ai maestri con il rispetto che ha dimostrato Claudio Ripalti è cosa che rende veramente onore a questo regista, che ha fatto veramente un ottimo lavoro, un bellissimo film che vi consiglio veramente di vedere. Ripeto, un piccolo capolavoro con i suoi difetti, ma che con la sua narrazione potente, lenta, maestosa e affascinante ci mostra veramente una storia, cioè ci narra una storia di violenza, di amicizia, di solitudine, di rabbia, di ansia, di riscatto, di lotta contro l'ingiustizia. Poi, siamo sinceri, la storia del film non è che sia aderentissima alla realtà storica, a quello che fu veramente Terenzio Grossi. Terenzio Grossi era un uomo violento, spietato, era un brigante senza scrupoli, fu un brigante tra i più, come dire, cattivi, se vogliamo, della storia d'Italia, perché si macchiò di numerosi omicidi, si macchiò di numerose rapine. Insomma, non è il tormentato cavaliere solitario che cerca giustizia. narrato dal film, Terenzio Grossi era un brigante e faceva il brigante, ma la storia del film comunque è bella perché veramente ci parla della solitudine degli uomini, dell'amicizia e dell'amicizia tradita, della violenza della vita, della durezza della vita, di quanto sia difficile essere uomini in un mondo di maschere e di marionette. Devo dirvi la verità, questo western, perché ripeto, si tratta di un western, girato nelle mie zone, nelle mie terre, vale veramente la pena di essere visto, perché è qualcosa di diverso dal solito, se vogliamo. Racconta una storia sconosciuta di più, racconta una vicenda che pochi ormai ricordano, ci parla di uomini che hanno vissuto e sono morti, cioè hanno vissuto una vita breve, spaventosamente dura, terribilmente violenta e che si è conclusa in maniera tragica. Un film che vi consiglio caldamente di vedere perché, ripeto, è una boccata d'aria fresca nello stagnante panorama del cinema italiano. Un piccolo film indipendente girato in economia con immagini memorabili, con sequenze veramente degne di nota, con, ripeto, una rispettosa, devota e, come dire, sentita devozione a due grandi maestri del cinema, ripeto, Sergio Leone e Sam Peckinpah. Un film da guardare, un film da vedere, un film che secondo me vi piacerà molto perché ci sono dei personaggi straordinari, su tutti il cattivissimo, incontrollabile e fuori di testa Santino. Guardate quel film e vi renderete conto che abbiamo a che fare con un personaggio che poco ha da invidiare ai grandi cattivi dei western di Sergio Leone e di Sam Peckinpah. Un film che però ha un vero grande protagonista, più ancora dei sette briganti della banda grossi, il film ha un grande protagonista, il paesaggio, il paesaggio delle Marche, il paesaggio di una delle regioni più belle d'Italia, il maestoso, lo splendido paesaggio del Catria, del Furlo, del Nerone, dei Monti delle Cesane, delle marmite dei giganti a Fossombrone, lo splendido centro storico di Urbania, l'ambientazione proprio da saloon di certe inquadrature. Insomma, ripeto, guardate questo film, reperitelo, andatelo a vedere al cinema, merita. Conoscerete, scoprirete un piccolo gioiello di grande cinema, un gioiello perfettibile con i suoi piccoli difetti, ma una pietra preziosa è bella anche se ha dei difetti, ricordate. E soprattutto per i non marchigiani, per i non pesaresi, per i non metaurenzi, per quelli che come me non sono nati e cresciuti nella valle del Metauro, guardate i paesaggi raccontati in questo film, guardate dove si muovono i personaggi, guardate i monti, le colline, i boschi, le terre, i paesaggi, la magnificenza, lo splendore della terra in cui sono nato. Ne rimarrete conquistati, secondo me, perché sono momenti, a dir poco, memorabili. Quindi, cari signori, io ve l'ho detto, se potete andate al cinema a vedervi la banda grossi. Non ve ne pentirete, perché scoprirete una piccola gemma preziosa, un piccolo capolavoro, un piccolo grande film western che è un omaggio veramente al grande cinema, a due grandi geni del cinema come Blood Sam Peckinpah e come il grande, il leggendario, l'unico e inimitabile Sergio Leone. Ripeto, guardate questo film, non ve ne pentirete, rimarrete conquistati nonostante sia un film tutto sommato dalla narrazione lenta, imponente, maestosa. Non vi annoierete, perché è proprio questo che lo rende speciale, questa capacità di scolpire immagini, paesaggi, panorami, personaggi nello sguardo dello spettatore. Guardatelo questo film, non ve ne pentirete. La banda grossi di Claudio Ripalti, un piccolo gioiello del cinema indipendente italiano da guardare assolutamente per capire che ancora forse il nostro derelitto e decadente cinema qualche cosa ha ancora da dire. Tutto qua. Quindi, cari signori, vi ringrazio per l'attenzione e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.